Credo che in questo momento la Sampadola deve ragionare sull'ultimo periodo, dobbiamo essere bravi a dare continuità, a riprendere nel modo in cui abbiamo finito. Ci siamo prefissati un mini campionato dalla partita di Salerno, da lì si è fatto un bel percorso, ci vuole resilienza e bisogna ragionare su quelli che siamo e non su quello che abbiamo in questo momento. Tutte le difficoltà non devono crearci alibi, anzi domani dobbiamo andare in campo ragionando sulla partita d'andata dove il ricordo è ancora vivo. Ognuno di noi dare il 200% per far sì che questa partita abbia un avviso positivo perché è molto importante per uno scontro salvezza. Io credo che dobbiamo ragionare sulle qualità della squadra avversaria senza guardare la posizione di classifica perché con l'inizio del giorno di ritorno tutte le gerarchie e tutte le situazioni vengono azzerate. Quindi ragioniamo solo ed esclusivamente sulla squadra che andiamo ad affrontare, hanno delle qualità nei giocatori che andranno in campo ma noi non siamo da meno, anzi dobbiamo ragionare, ripeto, sulle nostre di qualità perché poi spesso e volentieri il risultato finale è di peso sempre e soprattutto da noi stessi. Stiamo meglio nella posizione di classifica come ho già detto prima nel momento in cui si riprende un girone si razzera tutto e quindi è chiaro che diventa una partita importante soprattutto per la loro posizione di classifica. Quindi dobbiamo essere bravi a mantenerli ancora più lontani dalla nostra posizione di classifica ma io credo che indipendentemente dalla classifica ogni singola partita va affrontata e mi viene in mente con la determinazione, la cattiveria con cui abbiamo affrontato le ultime partite tra cui il derby, la partita di Coppa Italia con Torino che è una semplice. Noi dobbiamo avere quell'atteggiamento a prescindere dall'avversario, a prescindere dalla posizione di classifica dove portiamo a caso un risultato positivo e di conseguenza la posizione di classifica va a migliorarsi. Il presidente Marco Lanna è stato un giocatore importantissimo per la storia di questo club, ho avuto occasione di conoscerlo ancora prima di aver preso questa nomina e si vede la passione traspare da ogni foro, la passione per questi colori. Gli auguro grandi successi in questa nuova veste, è chiaro che poi il raggiungimento di un obiettivo lo dobbiamo per tutti, compreso oltre per il nuovo presidente, per le nuove figure che stanno arrivando e soprattutto anche per la tifoseria che in questo periodo ha visto purtroppo la scomparsa di un tifoso che ha avuto l'occasione anche di conoscerlo personalmente, una persona intelligente, equilibrata. Quindi massimo rispetto e cordoglio per tutti i familiari perché comunque ha scosso tutto l'ambiente santo.